Ciao a tutti, benvenuti come di consueto al webinar del lunedì delle ore 18 di investire.biz una settimana partita con davvero tantissimi contenuti qui sul nostro sito infatti abbiamo degli aggiornamenti del COT da parte di Diego Colombo e Valerio Zambelli abbiamo degli spunti operativi su Audi USD abbiamo una visione con la stagionalità sul gold da parte dell'intramontabile Alessandro Pompili il VIX, l'indice della paura analizzato da Giancarlo Prisco e ospite questa sera oltre ad Enrico Lanati che salutiamo, benvenuto Enrico buonasera a tutti abbiamo anche l'esperto di trading con lo studio del prezzo Marco Salerno buonasera Marco, benvenuto eccoci qui, buonasera a tutti allora ragazzi, su cosa state lavorando principalmente in queste ore? Marco, su cosa ti stai dedicando? quale grafico ha, diciamo, stuzzicato la tua attenzione? ma diciamo che principalmente sto aspettando un buon punto di ingresso su euro-dollaro per uno short ok per cercare di entrare in trend però a livelli un po' più convenienti di quelli attuali e poi sto aspettando il DAX che se dovesse arrivare, magari dopo lo vedremo, un po' più in alto sarebbe interessante da shortare bene, allora cominciamo dall'euro-dollaro è una situazione davvero molto particolare quella che si è venuta a creare nelle ultime settimane infatti vediamo il prezzo che dal livello medio di 1,24 ovvero questa, diciamo, zona centrale che ha interessato appunto poi i prezzi nei mesi di febbraio-marzo e tutto quasi aprile appunto tutta questa fase laterale i prezzi sono usciti da questa figura appunto di lateralità hanno rotto i minimi in area 1,22,50 e si sono diretti veramente in maniera molto molto direzionale al di sotto di 1,18 dal punto di vista fondamentale Enrico questo è un movimento che effettivamente ci si aspettava già da parecchio tempo in quanto i tassi di interesse in America sono ben superiori rispetto ai tassi di interesse in Europa sì assolutamente e tra l'altro l'avevamo detto che era da posizionarsi in forza di dollaro avevamo detto si possono provare magari delle operazioni di breve termine cercando di mettersi al rialzo c'è un mio articolo che proprio ne parla però è molto più rischioso l'idea invece corretta è quella di investire sul dollaro americano in virtù dei rialzi che dovrebbero esserci tra l'altro c'è stata una dichiarazione la settimana scorsa di un membro della Fed di cui non ricordo il nome però lui diceva sostanzialmente se l'economia tutto sommato sta andando bene noi vogliamo rialzare i tassi un po' più velocemente in modo tale da avere delle leve per poterli abbassare in futuro tradotto per dirla in maniera molto semplice gli americani dicono tutto sommato se arriva un piccolo storno sui mercati americani in qualche modo non ci interessa più di tanto visto e considerato che stanno salendo da una vita noi cominciamo ad alzare i tassi con un ritmo un po' più alto e poi vediamo nel frattempo che cosa succede questo porta a un incremento delle valutazioni del dollaro quindi io sono convinto che continuerà questo movimento a ribasso detto questo sono d'accordo con Marco che sia corretto attendere una fase diciamo di pullback per mettersi short qui potrebbe funzionare molto bene la tecnica dell'RSI a 40 e 60 che abbiamo visto più volte quindi secondo me un ritorno in area 18 e 50 e 19 potrebbe essere un ottimo punto per potersi mettere a ribasso detto questo e chiudo a livello macro è giusto oggi comprare dollari americani secondo me piuttosto che euro europei quindi l'idea è questa ecco quindi Marco secondo te bisogna appunto aspettare 1.18 e 50 1.19 per di nuovo posizionarsi short in direzione appunto di questo trend neonato perché possiamo dire che sia partito il 18 aprile quindi praticamente compie un mese tra pochi giorni ma quali possono essere i target io nel mentre che Enrico parlava ho tracciato delle semplicissime trend line una più di lungo termine che ha origini minimi di inizio 2017 una seconda trend line che vediamo avere origine in aprile 2017 che appunto è la trend line che ha sostenuto tutto il trend rialzista che poi ha invertito appunto con questa rottura in area 1.23 è possibile secondo voi che i prezzi possano raggiungere il livello più basso appunto qui intorno a 1.13 dal punto di vista fondamentale e macroeconomico lo chiediamo a Enrico dal punto di vista tecnico lo chiediamo a Marco Enrico allora bisogna capire con che forza vorranno diciamo verranno alzati i tassi negli Stati Uniti nel senso che se dovessimo avere una forchetta che si vada ad allargare oltre i tre punti percentuali tra l'euro e il dollaro americano è possibile un ritorno in area 1.13 quindi io non lo escludo ovviamente dovranno fare un bel po' di rialzi all'interno dell'anno quindi insomma vediamo se continuerà questa politica io sono convinto la Fed è brava a preparare i mercati quindi lo stanno lo stanno dicendo da tempo si stanno preparando io sono convinto che vedremo un bel po' di rialzi durante il 2018 bene 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 dal punto di vista tecnico Marco tu che sei un purista appunto del prezzo pensi che questa spinta rialzista del dollaro possa avere una chance di arrivare così così in basso oppure insomma la vedi diversamente allora bisogna fare un attimo una precisazione ovvero dal punto di vista se metti un grafico settimanale Luca possiamo notare come il movimento rialzista che è partito da 1.06 e ha portato i prezzi a 1.24 sia andato sempre di più a comprimersi nella fase di congestione che facevi vedere tu esatto quella fase di congestione adesso è esplosa come dicevi bene dalla settimana del 18 aprile più o meno 18.23 aprile la settimana 17 e adesso sono 4 settimane che il prezzo continua a scendere senza dare particolari cenni di allerta diciamo la settimana scorsa ha chiuso comunque una settimana dove sembrava che i rialzisti avessero avuto un po' la meglio due settimane fa scusatemi e nella settimana scorsa invece il prezzo ha comunque forzato nuovamente i minimi quindi adesso su un grafico settimanale un primo livello interessante sarà sicuramente il livello di 1.16.50 quel livello lì già in precedenza ha retto molto bene il prezzo e è un livello dove si potrebbe provare gestendo in maniera ottimale come sempre il money management a fare qualche posizione contro trend intraday magari o anche di breve durata su un 4 ore rotto quel livello nel caso dovesse romperlo e a sentire Enrico mi sembra molto probabile il prossimo livello interessante da un punto di vista grafico è 1.12.89 1.12.90 quindi molto più in basso esatto eccolo qua ed è il livello se non sbaglio dove passava anche la tua trend line più o meno che era 1.12.50 esatto esattamente quindi un supporto statico che si unisce appunto ad un supporto dinamico lo vediamo qui guarda basta tracciare una trend che appunto unisca le chiusure sui minimi a partire dal minimo del 2017 con l'inizio 2017 e appunto aprile 2017 vediamo appunto che l'unione è esattamente qui sul livello di 1.13 circa a luglio del 2018 questa unione di due operatività possiamo dire fa sì che il livello sia molto molto forte quindi da lì si potrebbe pensare eventualmente poi a un rialzo sul punto di vista giornaliero invece la giornata che si sta andando a concludere manca ancora un po' però le condizioni sembrano quelle se scendi di time frame sì, subito ecco qua che sto arrivando eccoci qua perfetto è una giornata che sta chiudendo una candela che al corso di analisi grafica abbiamo visto molto bene ed è tutt'altro che un segnale ribassista ora questa candela qui si è fermata esattamente sul livello di 1.1715 che è anche un punto di swing oggi in giornata non ho operato proprio perché la forza del dollaro in questi giorni è veramente tantissima e quindi ho preferito non operare e aspettare come ti dicevo il prossimo punto di swing che è 1.1850 per provare a posizionarmi al ribasso e da lì cavalcare il trend il più possibile lì diventerebbe poi nel caso arrivasse a quei livelli un'operatività un po' più di ampio respiro e si proverebbe proprio a cavalcare il trend fino a livelli importanti come quelli che abbiamo citato adesso ecco hai parlato appunto del corso che stai portando avanti insieme a Riccardo come sta andando? dacci qualche aggiornamento visto che comunque ha avuto molto successo avete siete già arrivati alla seconda lezione di 3 come sta andando questo corso che ricordo appunto è ancora disponibile dato appunto che è presente nel nostro calendario eventi come sta andando? qual è il feedback un po' che state ricevendo dalle persone? allora io sono contentissimo ma veramente tanto perché stiamo riuscendo a far capire finalmente quello che io dicevo già dal mio primo corso dei punti di swing e quindi che comunque una visione neutra del prezzo ha la precedenza su qualsiasi altra cosa o meglio saper leggere il prezzo è fondamentale per poter usare qualsiasi altro tipo di tecnica che sia con indicatori che sia analisi tecnica o qualsiasi altra cosa i feedback sono veramente positivi e mi fa molto molto piacere anche su facebook ci stanno scrivendo in tanti i corsisti sono veramente contenti di questo corso perché stiamo vedendo cose che sui libri non si vedono o meglio abbiamo preso quello che ho imparato io in nove anni di esperienza quello che di utile alla fine perché è qualcosa di utile ovviamente c'è sui libri altrimenti non servirebbero li abbiamo fusi insieme ed è venuto un corso che è diventato molto molto operativo anche in intraday nella lezione di domani andremo a vedere proprio in intraday come scovare i pattern e usarli non come si usano solitamente adesso non voglio spoilerare troppo però è la famosissima caccia e stop di cui si parla tanto e quella tecnica lì è molto molto divertente c'è Maurizio che evidentemente è un vostro corsista che dice sono bravissimi quindi davvero a parte che io mi leggo sempre i commenti anche a fine corso quindi sono sono estremamente fiero del lavoro che state facendo quindi davvero ti faccio i complimenti e ricordo appunto a chi volesse iscriversi in corsa diciamo è possibile farlo iscrivendovi ricevereste chiaramente le registrazioni delle lezioni precedenti e avrete poi l'opportunità di partecipare in tempo reale alla prossima lezione oppure comunque potete vedere sempre le registrazioni bene 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 torniamo sul grafico quindi allora su euro dollaro continuiamo a voler cavalcare la forza del dollaro quindi andiamo in direzione di appunto della diciamo della dell'analisi fondamentale quindi stiamo a favore di chi ha i tassi di interesse più alti ma chiaramente attendiamo un ritracciamento a 18 e 50 per andare a trovare questo punto di swing molto interessante dove poterci mettere di nuovo short molto bene grazie mille aggiungerei un'ultima cosa visto che insomma stiamo facendo stiamo facendo didattica secondo me è importante valutare questo i movimenti sul dollaro sono stati molto molto forti nelle ultime settimane e quindi i movimenti a rialzo sebbene diciamo sono delle classiche prese di beneficio potrebbero essere molto più aggressivi di quello che ci aspettiamo quindi io non escludo un ritorno a dare a un evento quindi il consiglio che mi posso che posso dare in questa fase è quella di entrare magari con sites molto piccole e gestire bene le posizioni da un evento secondo me si può vendere invece con sites un po' più importanti perché se ci saranno movimenti a rialzo secondo me saranno molto forti abbiamo visto delle candele quando si muove il mercato insomma piuttosto piuttosto importanti vedi che c'è quella sorta di test e spalle che si sta esatto volevo appunto far vedere in questo momento un attimo solo che mi sono impapinato col grafico però appunto volevo far notare questo test e spalle che sembra essere in formazione che qualora appunto dovesse formare una spalla destra vedremo appunto un livello di un eventi sarebbe assolutamente un livello tranquillamente raggiungibile per una spalla destra di un test e spalle di questa entità assolutamente bene 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 allora visto che ci sono tante persone collegate chiediamo un pochettino a casa a chi chi ha bisogno chi vuole fare un'analisi abbiamo Andrea che ci chiede pronti via GBP USD andiamo subito visto che qui abbiamo la fortuna di avere Marco Salerno che lui qualsiasi grafico gli date in pasto non gliene frega niente di cosa ci sia dietro guarda solamente i prezzi ne approfittiamo allora cominciamo con la richiesta di Andrea GBP USD benissimo come che grafico vuoi vedere qui ma io partirei da un 4 ore perché ho aperto una posizione da poco oh bene bene vediamo se anche i nostri amici sono in tempo a poter fare questa questa operazione vai raccomandaci allora è un'operazione che non piacerà ad Enrico lo so già perché è un'operazione con rischio e rendimento molto sfavorevole o meglio questo cambio qui come euro dollaro e come quasi tutti gli altri cambi col dollaro ovviamente sta sentendo molto la forza del dollaro avevo un interessante punto di swing che era dalle parti di 1.34.60 dove abbiamo anche fatto una posizione sul canale Telegram e abbiamo preso un discreto profitto su uno dei due storni che bravissimo che stai segnando lì Luca adesso cosa è successo il prezzo ha rotto il punto di swing con volatilità e quindi la rottura sembra ottima ma è andata a formare nell'ultima candela a quattro ore una conformazione grafica che anche questa qui è una candela di quelle che abbiamo visto al corso fa presagire una possibilità di ritorno in area 1.34.60 quindi il mio obiettivo è hard stop molto ampio che ricordo non per forza deve essere colpito in questo caso sono entrato long a 1.34.11 con stop loss a 1.32.99 target molto vicino perché è 1.34.56 ovvero il punto di swing precedente quindi l'obiettivo è prendere questo eventuale pullback che tutti quanti aspettano i pullback sulle rotture invece noi li cavalchiamo perché siamo aggressivi e eventuale chiusura in perdita ovviamente con la chiusura dei prezzi sul 4 ore al di sotto di 1.33.88 bene 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 mettiamo un grafico un po' più di ampio respiro per vedere un po' Enrico cosa ne pensa di GBP USD che comincia ad essere insomma è un po' di tempo che è in sofferenza ora proprio contro questo super dollaro a livello storico diciamo che andando proprio indietro tantissimo nel tempo vediamo appunto una situazione una situazione molto molto interessante per quanto riguarda questo cambio dove vediamo appunto una possibilità di salita contro il dollaro della sterlina nel medio lungo termine Enrico tu come come la vedi allora io penso che Marco andrà a target come cosa nel senso che secondo me la sua idea ha senso il dollaro ha bisogno di prendere fiato e quindi è bellissimo l'operazione che ha fatto questo diciamo giusto per discutere di quello che era l'operatività nel breve termine nel lungo termine in realtà la sterlina si può dire tutto quello che si vuole ma i reali che tra l'altro abbiamo visto anche ultimamente si è sposato Harry insomma la sterlina esiste da sempre secondo me continuerà a esistere quindi io sono convinto che su questi prezzi possano essere degli ottimi livelli per potersi posizionare a rialzo e quindi io sono dell'idea che un'inversione di tendenza ci possa essere c'è da dire una cosa la sterlina e l'euro non sono esattamente la stessa cosa nel senso che le politiche della Bank of England rispetto a quelle della BCE sono molto diverse quindi io mi aspetto un rafforzamento che ci può stare tranquillamente da parte della sterlina inglese in realtà penso che si aprirà una fase sostanzialmente di lateralità dove però i prezzi intorno a 1,37 potrebbero tornare tranquillamente di GBPUSD e in generale comunque le politiche della Bank of England saranno molto simili a quelle della Fed molto diverse da quelle della BCE quindi secondo me su questi livelli un acquisto di GBPUSD potrebbe essere un'ottima opportunità bene 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 dal punto di vista tecnico come vi dicevo l'analisi è abbastanza semplice in quanto vediamo che c'è stata la rottura di questa trendline di lunghissimo periodo cioè di lungo periodo che ha origine sui massimi del 2014 abbiamo questa rottura molto tecnica perché vediamo questa alta volatilità proprio in fase di rottura un bellissimo ritracciamento proprio dei prezzi proprio nella zona della rottura e ora questo trend rialzista che potrebbe tranquillamente vedere la sterlina tornare nel giro di sei mesi un anno appunto sui minimi precedenti in area 1,49 1,50 io non l'ho detto perché se no mi prendete in giro però io sono qui fino sulla non ci va però secondo me ritorna sul livello di picco diciamo che abbiamo visto sopra 1,40 però visto che sono sei figure ho detto 1,37 per essere conservativo detto questo io ho comprato sia titoli appunto denominati in steampound e questo lo sapete già da diverso tempo che anche appunto obbligazioni in sterline quindi si sa che io ho parte degli investimenti in pound vediamo vediamo con la tecnica appunto che ho descritto nel mio libro per andare ad individuare appunto i momenti interessanti di investimento in una in una in una in una valuta appunto ci dice qualche cosa siamo beh sicuramente qui eravamo quando c'è stato il minimo eravamo in una situazione davvero molto interessante infatti andando a tracciare la il canale di regressione vediamo come eravamo proprio nella parte bassa in questo momento siamo proprio a metà quindi insomma secondo me una una salita verso magari non dico la parte estrema alta del canale ma un pochettino più in basso in una zona appena sotto 1,50 è assolutamente fattibile bene 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 si potrebbe pensare a un'operatività con i corridor magari troviamo qualcosa vicino al supporto da comprare a poco bisogna bisogna andare a vedere le missioni quello guarda perché domani non ci sono però prova a vedere se lo trovi tu che magari fai un articolo su questa su questa cosa domani mi ci metto e guarda ci potrebbe essere un corridor su quei livelli bene bene potrebbe essere bene 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 allora compiti compiti a casa per Marco Salerno che va a trovare un bel certificato corridor per sfruttare questa situazione su GBPUSD allora tante richieste c'è l'amico Nicola che chiede AudiUSD poi Miriam e Emanuele che chiedono il gold allora cominciamo con il gold eccolo qua andiamo a vedere il grafico allora io del gold personalmente se non vi scoccio comincio io in quanto appunto dai massimi di questa figura diciamo di lateralità che è visibile appunto sul grafico giornaliero avevamo visto che la stagionalità prevedeva un movimento ribassista c'è stato molto tecnico questo movimento ribassista che come vedete ha rimbalzato anche sul fascia diciamo bassa di questo canale e in questo momento cominciano a vedersi delle belle ombre nella parte bassa cosa che sembra insomma indicarci un possibile rimbalzo della materia prima più famosa al mondo tra l'altro vi invito a visitare il sito investire.biz perché come dicevo all'inizio proprio oggi c'è stato un bel articolo dell'intramontabile Alessandro Pompili che è proprio analizzato la situazione abbinando come al solito la stagionalità e le sue analisi anzi vi mando anche il link nella chat di questo webinar quindi da questo punto di vista è arrivato probabilmente il tempo di chiudere questa operazione short e eventualmente rimettersi al rialzo come la vedete voi Enrico dal punto di vista anche fondamentale e Marco dal punto di vista prettamente del grafico un attimo solo che Enrico non ti abbiamo sentito perfetto eccoti qua ok allora praticamente io qui sul Gold in realtà ho una visione rialzista secondo me ci sono tutti i livelli sono molto molto interessanti per prendere posizione al rialzo in realtà non mi aspettavo rompesse il livello di 1300 punti in realtà pensavo si fermasse prima è sceso la mia view comunque rialzista tendenzialmente non cambia ovviamente qui c'è un tema il tema è legato al rafforzamento del dollaro con il dollaro che si rafforza è evidente che si hanno scese un pochettino le quotazioni non mi aspettavo movimenti così significativi dobbiamo attendere magari un ritracciamento delle borse americane per vedere il metallo prezioso continuare a salire c'è un altro tema che grandi investitori l'abbiamo visto sulla sezione guru monitor hanno iniziato ad accumulare oro io sono d'accordo per il medio termine con diciamo i tassi in aumento con i mercati azionari che potrebbero stornare in virtù di questo secondo me ci sta tutto accumulare oro quantomeno metterlo in un portafoglio di medio e lungo termine quindi come idea mi piace bene 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 intanto stavo tracciando una trend line di lungo termine sul grafico del oro dove vediamo una situazione molto interessante unendo appunto il massimo dell'agosto 2011 con il massimo dell'ottobre 2012 proiettiamo in avanti questa trend line che ha respinto i prezzi una prima volta e in questo momento siamo davvero in una situazione molto interessante perché vediamo appunto i prezzi sono ho tracciato male la trend line rifaccio ecco qua i prezzi sono proprio a ridosso del punto di rottura vedete i prezzi hanno rotto con forza questa trend line ribassista hanno ritracciato e sono esattamente sul livello di rottura che ricordiamo essere appunto una delle zone proprio migliori per far partire un trend a rialzo qui stiamo parlando di grafico settimanale Marco cosa ne pensi vedo Marco offline vediamo un attimino se ritorna che succede non ha pagato internet adesso vediamo se ritorna altrimenti andiamo avanti noi vediamo mentre rientra ti posso dire una cosa che ho guardato i corridor su GBPUSD non ci sono su euro GVP ci sono ma sono tutti molto cari quindi in realtà non vanno probabilmente tutti quanti a scadenza con rimborso il fatto è che al momento sono non vedo opportunità diciamo di trading su questo strumento ho capito ho capito ho capito ho capito intanto ci avvisano che internet non va a Marco Salerno quindi avevi ragione non ha pagato non ha pagato internet nessun problema andiamo a vedere invece Audi USD poi torneremo sull'oro se dovesse ritornare buon Marco allora andiamo a fare come al solito una guardata al grafico sul lungo termine dal punto di vista tecnico tracciamo questa bella trendline di lungo termine poi come vuole la regola tracciamo la seconda trendline e vediamo un po' i prezzi come reagiscono Enrico cosa cosa ne pensi di Audi USD hai qualche news da darci in merito no perché questo non mi piace tantissimo nel senso che se tu vorrei a vedere bene questo questo grafico non non ho idea di dove mi vorrei posizionare cioè tendenzialmente a rialzo però non voglio vendere dollaro quindi lo traderei tendenzialmente all'interno dell'intraday quindi cercherei magari un settaggio intraday quindi l'idea è probabilmente potrebbe potrebbe salire ancora qualcosina però insomma non mi piace tantissimo bene 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 ma anche a me non è che dica tantissimo questo grafico dico la verità perché esce da questa situazione di di comunque situazione di lateralità in questo in questo caso anche se appunto su un cambio come questo in un momento dove il dollaro è molto forte questa potrebbe tranquillamente essere una una rottura che poi viene riassorbita veramente nel giro di breve se dovessi appunto se doveste puntarmi la pistola da tempia sicuramente io qui mi metterei short proprio perché siamo su dei livelli comunque già alti i prezzi sono saliti già da parecchio da parecchio tempo di conseguenza proverei uno short in direzione comunque della valuta che in questo momento davvero sta facendo meglio di tutte appunto che è il dollaro ecco una cosa se possiamo aggiungerla secondo me qui siamo di fronte a due valute forti l'audi è l'unica valuta che si è apprezzata nei confronti del dollaro americano secondo me ci troviamo di fronte a due valute forti quando facciamo un'operazione diciamo sui cambi di fatto dobbiamo trovare una valuta forte da comprare una valuta debole da vendere quindi questa operazione a prescindere da come vada secondo me è sbagliata perché si va a scommettere contro una valuta forte in questo momento quindi sono entrambe valute importanti che si stanno apprezzando non capisco per quale motivo dobbiamo metterci short di una di queste due allora andiamo a vedere come ci chiede invece Ronny un grafico settimanale anzi lui chiede il grafico addirittura mensile dove andare a tracciare i canali andiamo subito a vedere per vedere appunto come siamo posizionati su questo strumento andiamo a tracciare i nostri canali e vediamo che anche in questo caso siamo più o meno a metà quindi abbiamo questo rimbalzo molto 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 bello proprio sulla metà del canale e una situazione comunque abbastanza di stallo con questa candela mensile che si sta formando che è abbastanza rialzista quindi una situazione sicuramente non del tutto chiara su questo su questo strumento che come giustamente diceva Enrico appunto stiamo vedendo stiamo parlando di due valute comunque molto forti di conseguenza probabilmente è meglio stare al palo bene 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 allora Marco prima parlava del DAX andiamo a vederlo il DAX ecco qua allora Germany 30 allora grafico giornaliero i prezzi sono saliti al di sopra della soglia psicologica e importantissima dei 13 mila punti Enrico nuovi massimi o nuovi minimi allora innanzitutto secondo me qui dobbiamo fare una bella valutazione perché sta succedendo una cosa molto strana come qualche settimana fa c'era il mercato italiano che stava performando molto meglio di tutti gli altri mercati europei anche quelli americani in questo caso stiamo vedendo proprio questa situazione Italia che molla con forza appunto rispetto ai livelli precedenti e Germania che tiene generalmente c'era comunque una sorta di correlazione tra i mercati finanziari in questo momento la Germania e in particolare la Francia più della Germania sono i mercati più forti secondo me quindi io sono diciamo un rialzista sul mercato francese più che su quello tedesco in ogni caso secondo me a livello di 13.000 potrebbe essere un'opportunità di acquisto che però non farò nel senso che a livello tecnico ci potrebbe stare un long su 13.000 io come sapete non voglio prendere posizioni direzionali a rialzo dopo un rialzo così importante quindi se mi dite qual è una bella idea secondo me è long Francia short Italia o Spagna meglio Italia di Spagna in questo momento però in generale ho paura metto il milonga 13.000 allora benissimo dovrebbe essere ritornato Marco Salerno vediamo se ci sente eccomi qui era molto devi pagarla la bolletta di internet però non è che scusa no a parte gli scherzi eravamo abbiamo passato eravamo su audio SD siamo passati sul DAX non so se hai sentito appunto l'analisi di Enrico qual è il tuo punto di vista allora personalmente infatti anche al webinar di lunedì scorso se non sbaglio avevo una visione abbastanza ribassista sul DAX perché ci trovavamo in area 13.000 e quindi da quei livelli avevo intenzione di provare cosa che ho fatto uno short che non è andato bene ovviamente perché il DAX come si può vedere ormai sta salendo e basta sembra di vedere un grafico del dollaro però c'è da dire una cosa interessante siamo arrivati in un punto che è molto vicino all'area 13.200 questa zona qui a dicembre ci ha fatto divertire moltissimo perché la zona da 12.900 a 13.200 se ti ricordi Luca è stata una congestione che abbiamo sfruttato esattamente è stata una congestione che abbiamo sfruttato molto molto bene quindi da quei livelli dei livelli di 13.200 proverò nuovamente uno short per vedere di arrivare magari in area 13.000 dove anch'io non mi posizionerò long però perché lo vedo abbastanza tirato il DAX io sono abbastanza ribassista sulle borse mondiali e quindi non mi posizionerò al rialzo da 13.000 eh ragazzi voi siete ribassisti ma qui sale continua a salire quindi fate attenzione perché siete abbastanza contro trend perché qui il trend è palesemente al rialzo il trend di fondo è sicuramente rialzista e io dico la verità se tornasse a 13.000 io un incremento delle posizioni long lo farei quindi assolutamente perché questo è un trend al rialzo vediamo comunque ci sono tantissime candele con delle belle ombre nella parte bassa insomma la forza non sembra proprio mancare ah no da un punto di vista grafico puramente grafico la forza c'è possiamo vedere anche come hai detto tu le candele tutte le candele che hanno provato a forzare i minimi e poi sono state completamente annullate in fine di seduta quindi il trend è fondamentalmente rialzista cioè vediamo anche prego 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 proverò solamente sul livello di 13.200 che magari essendo stata una resistenza molto molto interessante come ti dicevo prima a dicembre potrebbe portare uno storm di 150 200 punti magari ecco ne approfitto per per appunto parlare di una cosa della quale ho parlato oggi in un articolo appunto sull'articolo di banca IFIS che trovate in home page ho parlato appunto dei volumi e ho detto una cosa che ha incuriosito molto ovvero c'è stato Maurizio che ha scritto ciao Luca c'è una cosa che non mi torna perché dici che quando ci sono grandi volumi mentre scende il titolo è una fase di accumulo non è semplicemente un grande volume di venditori che provano che provocano il calo del titolo e io ho scritto gli alti volumi esauriscono le tendenze questo avviene sia sui massimi che sui minimi ecco vi volevo far vedere per esempio la situazione sul DAX vedete dove ci sono dei forti volumi in crescita le tendenze ribassiste o rialziste vengono esaurite quello che mi fa pensare che questo movimento possa continuare a salire è che tendenzialmente tutto questo movimento è avvenuto con dei volumi tutto sommato abbastanza contenuti avremo un in versione di tendenza quando ci sarà un picco di volumi a mio avviso e lo potete vedere in tantissimi casi nel passato vedete per esempio questa fase di massimo qui è avvenuta appunto con un picco di volumi proprio perché gli alti volumi tendono ad esaurire le tendenze in questo caso pian pianino il mercato continua a salire e io credo appunto che voglia continuare a salire dovrebbe esserci collegato anche Riccardino Zago che ho visto arrivare se volessi intervenire siamo ben contenti di sentire il tuo parere sul Daxer Riccardo che oggi non è stato tanto bene Riccardo come spesso gli capita lunedì dopo i bagordi del weekend eccolo qua eccolo qua che sta facendo la sua apparizione intanto ciao benvenuto buonasera buonasera a tutti si si io vi sento voi mi sentite bene sei vivo si si sono vivo ma voi mi sentite bene ti sentiamo bene ti sentiamo bene ah ok si si sono vivo oggi non sono stato tanto oggi non sono stato tanto bene però vabbè sono sempre qui collegato come un fedele utente del sito investire.viz all'appuntamento di ogni settimana però dovrei riprendermi anche perché abbiamo il corso e volevo anche ricordare che dovete portare quelli che partecipano cuffie e microfono perché potrete interagire direttamente bravo bravo io so perché è arrivato Riccardo Zaro è arrivato perché si vuole pavoneggiare del suo articolo su facebook ammettilo dai sei venuto solo per quello no no quello avreste dovuto da dirlo te prima perché io ho fatto il mio dovere spiegatemi che mi son perso questo mi son perso questo vai su facebook fammi vedere allora intanto primo consiglio di Riccardo Zago non bere troppo nel weekend soprattutto smetterla con la grappa la mattina a colazione quindi questo e il secondo vediamo se riguarda i mercati allora vediamo un po il 90% dei trader perde perché non sa leggere il prezzo Marco Salerno invece non mi ascolta e rischia di entrare in quella percentuale operatività in 3 day nell'ultima elezione del corso di domani perfetto anche un giorno per rischiare ancora un giorno per rischiare se il corso è completo aspetta allora vediamo un po intanto vorrei far notare vorrei far notare discorso tra premi Nobel proprio esatto allora shorty gold anche se sono malato l'occhio funziona adesso time frame target 1287 time frame 15 minuti ma non potevi venire in ufficio a fare ste robe qua scusa Riccardo cosa stai a casa a fare eh ma ho fatto proprio questa cosa qui e basta no non ero non sto bene non stavo abbastanza bene oggi per essere così tanto doji più gravestone mi piace ma time frame basso io passo tu sei entrato sì due minuti vediamo come è andata poi l'operazione è andato target poi bene 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 ottimo direi non è andato a lavorare però i suoi 100 euro in 15 minuti l'ha fatti quindi è contento bravo 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 esatto lo stipendio lo prende lo stesso in più in tutta tranquillità operato dal letto di casa sua bene segna Henry che facciamo meno 100 euro per Riccardo a fine mese sì 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 quindi ha guadagnato due volte va bene dai andiamolo avanti vediamo cosa c'è l'ultimo cosa volete vedere ancora avete parlato anche di UDUSD vero? ah sì sì torniamo su UDUSD dove ci devi dare la tua visione voi eravate voi due Enrico e Luca eravate un po' confusi su UDUSD ma io e Marco Salerno sappiamo bene cosa fare oh meno male ragazzi che ci siete voi perché io e Enrico stiamo invecchiando voglio voglio prendermi la mia vendetta su Enrico che l'altra volta mi aveva taggato dicendo che la fondamentale aveva vinto sul prezzo mi metti un time frame settimanale li ho ancora eh quei contratti lì non li chiudo mica io io ce li ho ancora eccoci qua siamo sul grafico settimanale di AudiUSD zooma pure nelle ultime candele Luca intanto l'operatività era di breve esatto allora si era andato a formare quella Dragonfly due settimane fa esattamente dove eravamo entrati al rialzo sia io che il buon Riccardo nella candela della settimana successiva io come tu ben sai Luca utilizzo gli stop di volatilità quindi ho sempre uno stop molto ampio e poi vado a gestire la posizione pian piano cosa è successo la candela della settimana successiva la Dragonfly ha forzato i minimi di dicembre esatto che sono area 75 esatto e a quel punto tutti gli stop fissi posizionati sotto i minimi di dicembre sono in automatico saltati io ho semplicemente alleggerito la posizione perché comunque in chiusura è andata sotto 075 e poi ho lasciato la posizione al mercato ora la posizione è in guadagno è per quello che uso il stop loss di volatilità perché gestendo bene la posizione è ovvio che se impostiamo uno stop loss di 200 punti e poi lasciamo che la posizione va contro lo stop loss il conto lo bruciamo in un mese e mezzo ma invece utilizzando il stop loss di volatilità e gestendo bene la posizione si possono fare modifiche che però non intaccano completamente la posizione quindi abbiamo modificato proteggendoci da un eventuale movimento ribassista se fosse continuato ma poi siamo rimasti al mercato e adesso la posizione è in guadagno bene 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 ottimo 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 mi piace molto sì queste candele appunto che vanno a violare dei minimi così importanti sono davvero dei punti di svolta particolarmente importanti per ogni grafico e saperli interpretare davvero molto 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 importante bene 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 allora abbiamo ancora cinque minuti prima della fine di questo webinar quindi se doveste avere voi da casa qualche richiesta particolare scrivetela che vediamo di fare in tempo a far tutto andiamo io credo che sia importante andare a vedere il crude oil che in perterrito continua ad avere un trend rialzista molto molto importante abbiamo superato la soglia dei 70 dollari al barile dove vuole andare questo petrolio Marco cosa ne pensi dal punto di vista grafico hai un'idea su su questo su questo strumento oppure no sì allora è chiaramente in trend allora lo dimostra da un punto di vista settimanale se metti un grafico settimanale Luca sì possiamo vedere come la candela che ha rotto la fase laterale che è la candela che per capirci è partita da 62 ed è arrivata a 66 l'ultima candela prima del movimento rialzista ha formato un engulfing che come avevamo già detto proprio subito nella settimana seguente all'esplosione di questa candela qua insieme a riccardo avevamo detto se ci fate caso se notate e questo vuol dire sapere interpretare il prezzo questa qui è la candela con range più alto del movimento del trend in corso quindi aspetta quale candela ti riferisci che mi sono un attimo perso è la settimana 15 esatto ok quindi fine aprile quella candela lì valutando noi la stavamo analizzando ovviamente nella settimana seguente abbiamo detto questa candela qua è una candela che dalla rottura dalla volatilità e dalla quantità di scambi che ci sono stati nella settimana può far ripartire tranquillamente il trend riccardo correggimi se sbaglio ed così è stato infatti la settimana seguente nelle due settimane seguenti ha tentennato un po' però senza dare grossi cenni di cedimento e nella terza settimana dopo la marubotsu ha confermato i massimi e adesso sta continuando a crescere ora bisognerà anche vedere per quanto tempo potrà continuare a crescere io livelli interessanti dal punto di vista grafico ne ho uno a 74,50 74,50 75 sempre su un grafico settimanale dal quale si potrebbe pensare di su quel livello di andare a valutare il come il prezzo dovesse arrivare su quel livello come se dovesse arrivare su quel livello e pensare magari a un'operatività in short però è molto rischioso perché il petrolio in questo periodo è veramente molto 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 forte bene 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 Enrico vuoi aggiungere qualcosa? Sì di questo ne avevamo parlato negli scorsi webinar e se vi ricordate eravamo tutti concordi sul fatto che il prezzo avrebbe dovuto continuare a salire perché il discorso era proprio legato al target di inflazione il petrolio aiuta alle diciamo le banche centrali a raggiungere i target di inflazione quindi io sono convinto che un incremento del prezzo del petrolio faccia comodo in questo momento a tutti ogni fase di ritracciamento è utile per posizionarsi nuovamente a rialzo quindi in questa fase è uno dei trade più interessanti se poi tra l'altro il dollaro dovesse perdere un po' di valore probabilmente le quotazioni verrebbero spinte ancora più a rialzo insomma quindi questo potrebbe potrebbe aiutare bene 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 Riccardo vuoi suggerire tu uno strumento da andare a vedere prima di salutarci ah ok allora un altro strumento te lo dico subito però prima volevo anch'io condividere la mia ah si scusami certo certo sul petrolio che comunque alla fine è la stessa di Marco lui ha individuato 74,50 io individuo 75 che comunque è un target rialzista che stiamo portando che sto portando avanti da molto tempo un vero peccato non essere entrati avevamo impostato diversi ordini che sono stati mancati per veramente pochi pips un peccato ma comunque la zona di 75 risulta essere interessante come resistenza e da lì vedremo come diceva Marco in che modo arriverà a quel punto per provare degli short ovviamente se poi la resistenza verrà rotta potremo concentrarsi su ulteriori posizioni ulteriori posizioni rialziste bene 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 allora ultimo strumento prima di salutarci cosa volevi consigliare Riccardo allora ultimo strumento ultimo strumento allora mi è scappato ce l'avevo qui allora vediamo lo scusiamo solo perché è malato è malato è tutto ancora da verificare adesso gli mandiamo il medico il medico del controllo e vediamo subito se se è malato oppure chissà non mi viene in mente nessuno strumento sinceramente ah no usdn usdn volevo vedere ecco andiamo subito a vedere usdjpy perfetto una bella ombra nella parte alta della candela che sembra voler e se vai a tracciare una trendline dalla chiusura dell'1 novembre dell'1 novembre quindi qua novembre 2017 e tracci alla chiusura dell'11 dicembre 2017 o poco più avanti del 21 dicembre insomma siamo siamo proprio lì wow spettacolo ma chi ti ha insegnato a tracciare le trendline che sembri uno bravo bello 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 mi piace un casino traccia anche una resistenza statica a 111 a 111 110,90 più o meno comunque se trovi questi livelli qua puoi lavorare da casa te lo dico bello bello mi piace lo stiamo tenendo d'occhio sono già entrato short in realtà e beh ovviamente da questi livelli proprio da 101 a questi livelli quindi ragazzi se avete il mouse sul se avete il dito sul mouse è una piattaforma qui se volete seguire che cosa vediamo che cosa vediamo nella giornata di oggi che c'è stata una tentata rottura di questa resistenza dinamica oltre che statica e quindi è molto interessante uno stop sarebbe poi intelligente posizionarlo alla chiusura dei prezzi al di sopra del massimo della candela odierna esatto molto molto bella questa davvero siamo su una zona interessantissima e è molto interessante guardare la candela precedente la doji barra spinning top di due candele fa esatto bello 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 molto interessante questa molto bella questa operazione che sto seguendo e io personalmente sono già in posizione bisogna ovviamente fare attenzione perché tutti insomma sappiamo bene la forza del dollaro nell'ultimo periodo e lo possiamo notare anche dalle candele precedenti insomma quindi è sicuramente un'operazione rischiosa ma molto bella a livello tecnico bene 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 allora ragazzi vi porto sulla pagina di webinar e corsi perché appunto vi ricordo intanto che domani il giorno 22 ci sarà il webinar mensile tenuto da Giancarlo Prisco sulle criptovalute quindi un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di appunto cripto che vogliono speculare sul mercato utilizzando le tecniche degli investitori istituzionali e poi sempre martedì quindi sempre domani ore 20 il corso completo di analisi grafica quindi con il nostro Riccardino Zago e con Marco Salerno mi raccomando iscrivetevi perché potete ricevere la registrazione delle puntate precedenti e partecipare appunto in tempo reale a questa a questa sessione ragazzi visto che abbiamo finito con il vostro corso lascio fare a voi saluti e per quanto mi riguarda ci vediamo lunedì prossimo al webinar del lunedì grazie mille grazie mille grazie mille per avermi ospitato nonostante oggi non fossi presente e grazie mille a tutti io vi aspetto domani sera alle ore 20 sarà la puntata più bella del corso avevamo detto che era la seconda però nella seconda avevamo così tante cose da dire che non siamo andati molto nella parte pratica e quindi la parte pratica tutta domani quindi domani operatività a go go quindi io vi aspetto domani alle ore 20 insieme a Marco Salerno ciao e grazie a tutti mi raccomando soprattutto il discorso di portare microfoni almeno potremmo interagire insieme che se non sbaglio è una cosa inedita potremmo vedere perché una cosa è scrivere le domande una cosa è proprio interagire direttamente con noi e chiederci in tempo reale cosa e come leggere veramente il prezzo che è quello che stiamo cercando di insegnarvi in questo corso grazie mille a tutti e a domani buona serata buon trading a tutti buona serata a tutti grazie a tutti